Quello che vedete alle mie spalle è il Teatro Cantelli, in centro a Vignola. Dal 2014 l'Associazione Andrei ha la direzione artistica del Teatro Cantelli di Vignola. Sei stagioni di teatro, artisti di fama nazionale, per una media di dieci spettacoli a stagione. Ma al Teatro Cantelli mancano luci di sala adeguate e soprattutto mancano le sedie. Per sei stagioni gli spettatori del Cantelli si sono seduti su sedie da ufficio. Invece noi per il Cantelli vorremmo sedie da teatro, come queste. Sedie da teatro per un gioiello di teatro in centro a Vignola. Votateci! Vive il teatro!